ciao ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video che oggi vi faccio su due profumi di shogun shogun è una marca italiana che produce profumi equivalenti e ai quali ho già dedicato due video in questi ultimi anni e che mi piace tantissimo perché alcuni profumi sono veramente delle ottime imitazioni e hanno la caratteristica di essere anche parecchio concentrati e durare parecchio sulla pelle ora vi riporto brevemente quella che è stata la mia esperienza con questo brand direi che tra i profumi che ho provato i migliori sono profumi non floreali soprattutto quelli della categoria gourmand sono veramente ottimi se andate a vedervi il mio video più vecchio parlo proprio di del profumo lost cherry di tom ford che shogun ha fatto un'imitazione veramente straordinaria e ho provato anche vari campioncini che mi erano stati regalati e davvero direi che sui profumi della categoria gourmand orientale speziata andiamo proprio bene i più difficili in generale ma per quanto riguarda un po tutti i brand di profumi equivalenti i più difficili da imitare sono i profumi chanel in particolar modo ma sono riuscita a trovare un profumo che è un profumo abbastanza floreale che è un'imitazione di una chicca uno dei profumi miei preferiti di chloe e vi parlo oggi del dupe di chloe love di love chloe che è veramente tra i miei preferiti questo ormai è discontinuato purtroppo questo è il il suo flacone originale e quello che io ho è un 50 ml poi sono riuscita anche a recuperare grazie a martino parfum world che ringrazio mio carissimo amico la versione intense che è qualcosa di favoloso di spettacolare e che io preferisco in assoluto ancora al classico comunque profumo davvero introvabile e che shogan ha fatto la bellissima meravigliosa cosa di creare il dupe ed è un dupe che davvero si rispetti io ho la versione da 35 ml che potete acquistare facendo riferimento al sito o alle indicazioni che io vi metterò qua nell'info box e costa poco più di 15 euro e questo è il flacone molto molto carino e anche pratico volendo da portare in borsetta elegante quasi un po rococco così bianco e oro e mi ha sorpreso veramente questo questo dupe perché paragonandolo alla versione alla versione originale sono un po' diversi nell'apertura il love chloe è stato creato nel 2010 e si apre con note un po' speziate tra cui abbiamo note ad esempio di pepe rosa ma il pepe rosa la nota speziata è una nota che io non avverto più di tanto nella nella fase di apertura del profumo ed ha un cuore con note di glicine note di fiori d'arancio è proprio completamente floreale il cuore di questa fragranza che anche dei fiori acquatici dei fiori che di solito donano un un sentore acquatico non marino non confondetevi perché ci sono fiori che danno sentori acquatici come per esempio la ninfea ma che non danno il sentore marino al profumo nel senso della nota di calone che c'è nei remini essenza poi è un profumo molto talcato a note talcate sul fondo unite a note di riso e di muschio e questo profumo ricorda un po' i vecchi rossetti le ciprie non è un talcato nel senso di baby powder non aspettatevi il profumo tipo le petite mamman quindi non siamo in quel tipo di profumi ma è un profumo con un'aria un po' retro floreale estremamente elegante femminile e sofisticato questo profumo è tra i chloe quello che più mi piace e al primo posto è la versione intense indi per cui mi sono informata se c'era un dupe e questo dupe l'ha fatto shogun ed è una meraviglia che esista poiché non si trova più in circolazione io mi risparmierò un po' gli originali nell'apertura dicevo è leggermente più alcolico dell'originale e questo si sembra quasi un pochino forse più più speziato perché quasi più strong nell'apertura ma vedrete che dopo cinque minuti che ce l'avete addosso inizia ad assomigliare sempre di più a love chloe e tra l'altro un'ottima notizia per questa fragranza è che arriva a durarmi addirittura di più da love chloe originale che già non è male come persistenza è moderata la persistenza mentre con l'intense io ci vado a nozze perché è strong ma si vede proprio quando lo si spruzza che è un profumo estremamente oleoso sulla pelle oltretutto già la persistenza è buona di per sé perché hanno una concentrazione di fragranza che è intorno al 30 per cento quindi è ottima stiamo parlando di un vero eau de parfum bello intenso oltre a quello li potete anche associare al suo bagnoschiuma perché ci sono i bagnoschiuma e anche le creme corpo fragranzate e sono ottimi prodotti anche con un buon inci direi loro utilizzano come vettore della fragranza l'alcol buon gusto infatti appena spruzzato si ha questo sentore di quasi di di grappa tra la grappa e il rum l'odore che si sente appena spruzzato però non è quel sentore che ho sentito in altri profumi equivalenti quasi simile alla colla con un odore veramente quasi vinilico strano che a me non piace io preferisco sentire un pochino di più l'odore dell'alcol piuttosto che certi sentori chimici strani e veramente questo questo brand mi piace mi piace tanto direi che se la vede tranquillamente con altri brand anche più conosciuti a livello internazionale e sono fatti fatti bene tra l'altro e adesso vi parlo di un'altra scoperta sempre di dupe qua si parla di un profumo di scontinuato qui invece si parla di un dupe di un profumo di nicchia e questo sarebbe il numero 105 che è il dupe di montal intense caffè allora vi dico anche il numero mi sono dimenticata di dirvi il numero che è il 343 del dupe di love chloe ma torniamo torniamo adesso al profumo di cui voglio parlarvi che è il 105 dupe di intense caffè intense caffè io ce l'ho in un campioncino originale della montal e li ho provati e confrontati e veramente sono veramente spiaccicati questi due profumi è uno dei dupe veramente ben fatti da shogun e come livello di somiglianza è ancora più elevato del dupe di chloe questo forse perché questo almeno è il mio pensiero poi contradditemi ditemi la vostra io trovo che profumi un po' più che hanno più evoluzione come per esempio il love chloe o altre fragranze più dinamiche sono più difficili poi da imitare mentre molti profumi di montal così sono come gli spruzzi e così rimangono sono tendenzialmente un po' più statici e quindi forse più facili penso io da riprodurre comunque veramente a me è un profumo che piace l'intense caffè ma questo di shogun è veramente pazzesca mente incredibilmente uguale altri profumi che sono sulle stesse corde di intense caffè di montal sono ad esempio il vanille roses di mansera che ricorda però di più deluxe di tiziana terenzi a mio avviso e che è uno dei profumi che io amo tantissimo indossare durante l'inverno ma qui stiamo parlando di dupe veramente ben fatti che vi portate a casa con con pochi soldi io non so quanto non mi ricordo quanto veniva quanto costavano i dupe dei profumi di nicchia in questo caso forse erano sui 50 euro quello almeno il lost cherry non so questo se andava sui 35 penso di sì perché sarà anche in base al profumo che vogliono imitare ovviamente il lost cherry è molto più caro ancora dell'intense caffè di montal però stiamo parlando di prezzi che sono veramente un quarto di quello che è il prezzo originale oltretutto io non sono non sono e questo ci tengo a sottolinearlo una consulente shogun per motivi di tempo ma anche perché ho talmente tanti profumi e provo talmente tanti brand che per me diventerebbe un impegno ulteriore oltre a quelli che ho già nella mia vita che sono che sono tantissimi ma chi voglia iscriversi alla shogun chiaramente in quanto iscritto ha anche diritto ad avere degli sconti veramente veramente molto molto consistenti e niente io spero veramente di avervi di avervi invogliato con a sentire questo questo brand italiano che merita proprio tanto e intense caffè è proprio uno dei primi profumi che sono stati caratterizzati da questa nota di caffè questo è l'opium di Yves Saint Laurent questo in più l'intense caffè ha un forte odore anche di rosa di rosa rossa al suo interno mescolato a queste altre note vanigliate è un profumo con degli accenti fortemente molto molto gourmand è sicuramente un profumo unisex se amate intense caffè veramente fidatevi fidatevi di me che con questo numero 105 andrete a nozze sono curiosa di vedere chi poi mi darà anche un feedback per quanto riguarda questo profumo e infine volevo dirvi anche che ho avuto occasione di provare anche qualche altro prodotto appunto oltre ai profumi tra cui bagnoschiuma anche il gel igienizzante ma il gel igienizzante chissà quante papere avrò messo in questo video me le vedrò poi alla fine ma le lascio perché non voglio fare tagli lasciamo così la spontaneità di parlare e questo gel igienizzante maniche è molto comodo secondo me da portare in borsetta io ad esempio sono una che si porta la casa quando si sposta veramente di tutto nella mia borsa e spesso certi dispenser certi flaconi si aprono facilmente in mezzo a tutte le cose e al mondo che io ho nella mia borsa e mi è successo ancora purtroppo che magari qualche tubettino qualche flaconcino si aprisse col rischio a volte di rovinarvi o il cellulare o un libro che avete o un'agenda quindi questi qua stanno belli chiusi e sono veramente comodi da portarsi in giro ve lo faccio vedere tanto per visualizzare anche il pack di questo flacone molto comodo da portarsi appresso che è certificato per quanto riguarda l'utilizzo ad esempio di prodotti di origine animale non contiene sostanze dove ci siano OGM e insomma anche altre varie certificazioni ecco è importante il fatto che ci sia il 75% di alcol perché sotto certi livelli se il livello di alcol è troppo basso in un igienizzante l'efficacia battericida non funziona ecco in sostanza quindi diventa molto molto blando come disinfettante e questo è tutto spero di esservi stata utile con queste mie recensioni queste due recensioni vi lascio il link nell'info box della persona dalla quale mi sono affidata per questi profumi se volete andare a vedere sul sito anche vi mando un grosso bacio ci vediamo nel prossimo video profumoso ciao a tutti